In quel momento ho visto nero, il diavolo si è impossessato di me. Così Angelo Bernardone, 76 anni, confessò l'omicidio della moglie Maria Rita Conese, 72enne, avvenuto nel pomeriggio di Santo Stefano, nel 2021. E la corte d'assise di Lanciano, presieduta da Massimo Canosa, ha condannato l'uomo a 14 anni di reclusione. Il pubblico ministero ne aveva chiesti 24 con le attenuanti generiche, come anche il legale dei quattro figli della coppia, costituitisi parte civile. Nella ringa finale, invece, la difesa aveva chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove o in subordine la derubricazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale, con il riconoscimento della semi-infermità mentale al momento del reato, che avvenne lungo la strada provinciale tra Casalbordino e Atessa. L'uomo gettò la moglie da un ponte. Un dramma familiare consumato tra le mura domestiche, la donna era malata da tempo da demenza senile. Bernardone oggi è un uomo libero, vive in Molise da solo. Questo è il suo racconto. Io l'ho detto e l'ho ripeto, la cattiva sanità mi ha portato a fare quella cosa. Perché mia moglie, riconosciuto due volte al 100%, non gli hanno dato una lira. la 104% a mio figlio, nemmeno quello. E allora le persone si vanno all'esasperazione. E si fa degli errori. Io con mia moglie 50 anni insieme, quattro figli, c'ho mio nipote, 20 anni. Ci ho regalato la macchina, la mia macchina, l'ho regalato a mio nipote, i miei beni. Ho fatto la tele che è mio figlio a Marco, quando correndo, che è la mia pensione. Ho fatto sempre quello che ho potuto fare, però succedono le cose che non devono succedere. Io adesso mi sto a Montenegro, ho trovato due camere di gas, sto per condominio, vado a fare la spesa, solo che sto da solo. Però ho ritrovato gli miei amici che ci hanno lavorato 40 anni insieme. Beh, serenità, serenità per modo di dire, io lo so che ci sta. E' pentito? Certamente, pentito, solo pentito, non è che scherzi. Per il legale difensore Vincenzo Cocchino è presto per parlare di ricorso in appello. Valuteremo, leggeremo le motivazioni, però devo dire che comunque ci è soddisfazione perché la Corte ha capito il contesto familiare in cui è avvenuto. L'imputato è stato condannato anche al risarcimento di 100.000 euro per i quattro figli che tramite l'avvocato Gian Paolo Di Marco hanno espresso la volontà di devolverli in beneficenza per donne vittime di violenza. Le parti civili hanno ritenuto di fare questo gesto civico di solidarietà e di partecipazione perché effettivamente da questo processo non è mai emersa la circostanza che la vittima era una donna e che soprattutto in questo periodo, ora come allora, è l'ennesima vittima di un femminicidio. Come ho detto durante la discussione, l'imputato ha scelto di non scegliere perché togliere la vita di una persona significa non scegliere. E quindi con questo gesto i figli hanno voluto ricordare che da un male può comunque nascere un bene a favore della comunità e quindi superando questa diffusa egolatria dei tempi che viviamo.